C'è io per esempio tra poco mi metto a pittare un po' con lui e faccio vedere come funziona e poi ci stanno questi ceramisti che col fuoco fanno la ceramica live ma qua si svolgerà tutto per cui mi sta attendo a non affogare il... No vabbè ti ho detto quante sedi ci possono andare? C'è qua ci sta proprio il contatto mentre uno recita fa poesia uno disegna in mezzo a noi c'è qua Quando vogliamo fare? Qua? L'ottobre già inizierà? Settembre, inizio settembre inizio settembre per cui dobbiamo quindi questa roba qua c'è la roba di Quintessence di Salerno. Se fosse dal 27 28 agosto fino al 31 era meglio perché fino estate ci sta la... secondo me. Allora che succede che io qua porterò Quintessence di Decisione a Salerno cioè quelle che abbiamo la portiamo qua e vai in mostra. No, ma vedete per questo... Già è sera signor... Uuuu... Ah, sta a te... No, no, tranquilla... No. un'arancione giustiviato bella tese E' un po' più grande. C'è sempre il mare, senti? Il tappeto devo mettere da qui Eh sta venendo lei due le mosse Permetti, non vietando io No, no, ma fa così Un po' di blu là sopra Così va a miscelare con il rosso? Sì, sì Va bene così Ah interessante Già non è già l'ho